Resistenza è quella cosa che, senza che uso termini troppo sofisticati, vi permette di continuare un lavoro nel tempo. Immaginiamo, è tipico, la disciplina di resistenza tipica, noi dobbiamo sempre imparare dall'atletica leggera che è la madre della metodologia dell'allenamento, quindi io faccio riferimento sempre all'atletica leggera per quanto la nostra disciplina è una disciplina di situazione e con l'utilizzo muscolare che non è uguale a nessun'altra come lo è anche il tennis, come lo è anche il calcio e come tante altre discipline, ma per imparare che cos'è la resistenza, la forza, la velocità, andiamo a vedere chi le ha studiate per prima. Storicamente non c'è dubbio che la metodologia dell'allenamento è stata scritta sui campi di atletica leggera. Per quanto riguarda la resistenza, stiamo parlando della dote atletica più allenabile, cioè ancora non conosciamo qual è il limite della resistenza, la componente mentale è fondamentale, cioè che cosa vuol dire? Che se noi questa sera lavoreremo un po' per la resistenza e noi sappiamo che quello che stiamo facendo ci porterà ai risultati, quindi siamo più motivati, allora riusciremo a ottenere maggiori risultati. Quello che dice sono stanco, se è motivato ce la può fare ancora. Voi sapete che anche nella forza la motivazione è importante, fanno training autogeno anche quelli che fanno gli sforzi massimali, ma la dote mentale molto più presente nella resistenza. Capite che per quanto resistenza quello vuol dire? La resistenza che deve avere per esempio un combattente di sandaccio della lezione successiva, quella di un pugile che magari fa dieci round da tre minuti e quella di chi fa difesa, che magari per 30 secondi, quanto deve durare questo scontro fisico? 30 secondi è abbastanza, vogliamo fare un minuto, ma non di più. E allora dovete sapere che addestrarci per fare dei round di due ore e mezza, come può fare un corridore, una seduta da due ore e mezza di continuo lavoro fisico? A noi ci porta di positivo un fondo di base, cioè una capilarizzazione importante perché poi per il recupero ce lo troviamo, eccetera, ok? Però non mi servirà, ok? Noi non avremo bisogno di una macchina che consuma poco così che ci faccio mille chilometri con un pieno. Noi abbiamo bisogno di un'automobile che può consumare quello che ti pare, ma in 30 secondi mi deve dare tutto, 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 tutto subito. Non deve avere né blocchi mentali a farlo, né limiti fisici di erogazione di energia. Nella difesa personale non posso dire alleno la resistenza, faccio dieci round a tre minuti, non mi servono. Noi dovremmo abituarci, come dicevo la lezione scorsa, ad essere pronti al lavoro fisico intenso anche da freddi. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me, unisciti ai miei studenti, clicca il link che trovi nei commenti. Grazie.